E' stata trasmessa il 29 giugno in Simulcast su 9 e su D-Max la puntata pilota di Il ricco e il povero, l'adventure game che vede protagonisti, disinibiti, divertenti e sfavaldi, Chef Rubio e Costantino della Gerardesca, che hanno in comune il cuoco più anticonvenzionale e il conduttore più originale della tv. Il ricco, Costantino e il povero Rubio sono stati catapultati in una realtà sconosciuta e coloratissima come Marrakesh, alle prese, un po' come succede in Pechino Express, con prove in squadra o singole per raggiungere un obiettivo, godersi una vacanza extra lusso, piuttosto che ritrovarsi a vivere in un paese straniero senza alcun comfort per un weekend. Dalla ricerca di oggetti nel souk, alle chiavi in una scatola piena di serpenti, dai confessionali ironici e taglienti di Costantino della Gerardesca alla verba contagiosa di Chef Rubio, il ricco e il povero ha decisamente incontrato il favore del pubblico e come poteva non essere, ci chiediamo noi, data la naturale simpatia dell'inedita coppia di viaggiatori? Come il bianco e il nero, il dolce e il salato e lo ying e lo yang, il ricco e il povero hanno offerto agli spettatori impressioni della terra marocchina, impressioni diverse, complementari, autentiche. Dunque la domanda che rimanza in rete è, a quando le nuove puntate dell'adventure game? Costantino e Chef Rubio, coppia fantastica, finalmente un programma divertente, aspettiamo altre puntate, ha cinguettato un utente, seguita da un altro che ha scritto, pretendo altre puntate del ricco e il povero subito.